Ciao, mi chiamo Cristina, sono venuta a questo seminario per vedere come il singolo riesce a partecipare all'interno del processo contro la discriminazione e ho capito che ognuno attraverso le associazioni sul territorio nel piccolo e poi a salire fino alle grandi organizzazioni europee riesce a far sentire la propria voce nella lotta contro la discriminazione. Grazie a tutti